Ciao a tutti ragazzole e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi ragazzi siamo su un gioco diverso Perché siamo su Fortnite Visto che me l'avete chiesto in tantissimi E quindi vi ho accontentato Ve lo dico fin da subito che sono Nabbo Quindi, visto che sono Nabbo e non posso giocare da solo Sono in compagnia di un ospite speciale Cioè Enzo Official Tube Bella raga, bella Quindi raga mi raccomando passate anche dal suo canale Perché sta iniziando a pubblicare anche lui video di Fortnite Sicuramente se la cava più di me Trovate il link del suo canale qui sotto in descrizione Comunque tengo a questa gente qua C'ho paura perché io sto senza niente Non ho lottato niente Vieni in casa Ah raga io ve lo dico Sono Nabbo, questa qua sarà la quarta partita Vi dico eh Ho giocato l'altro giorno Terza, quarta partita, infatti sono livello 5-6 E quindi non massacratemi qui sotto nei commenti Però se volete supportare Fortnite E magari farmelo continuare a portare Mi raccomando lasciate un pollicione in su E iscrivetevi al canale Cliccando sulla campanellina In modo da non perdervi i prossimi video di Fortnite Comunque fammi sapere Ok, perfetto A me, diciamo che a livello di mira Mi la cava abbastanza Raga perché comunque sono abituato con Rainbow Non è che so fortissimo Ok, apro la cassa Aspetta, mi prendo la benda Allora, qua ci sta quest'altra roba Io piglio tutto Allora, addosso C'è la questa qua Ok, eccola qua Allora Oh, che epica questa, giusto? Sì, sì Ah voi, prenditelo tu, sto fucile Vieni con te Vieni con te Allora, dammela a me Allora, dimmi tu che dobbiamo fa Guidaci tu, sei tu il leader Dobbiamo andare a luttare Dobbiamo andare a luttare Per prendere il più anni possibile Ok E qua c'è un'altra cassa Aspetta, aspetta Ci sta qualcuno qua? Perché già prima si stavano massacrando Per ora no, per ora no Uno l'ha ammassato già 195 quest'anno Però tu lutta, lutta, vieni, vieni Ok, ok Allora Come si chiama questa qua? Ok, lancia granate Perfetto Come funziona il lancia granate? Vanno all'impatto le granate? Sì, esatto No, no, però Quando cadono Sparo, sparo Ah, ok Oh, ci sta uno qua Sparo Attento, attento, attento Ok, perfetto Mi hai rubato la kill Bastardo Oh, aspetta Che cosa è questo qua? La balestra? La scambio con questa qua Che già ce l'ho Va Ok Poi Qualcosa di utile Nulla di che No, no Non è venuto Ok, aspetta un attimo Voglio mettermi La balestra qui Ok Full vita Ah, non mi ha neanche colpito Perfetto La balestra Esatto Colpi infiniti Colpi infiniti La balestra No, no Ti servono i colpi della R Cioè dell'assalto La primaria Sì Perché ne tengo 26 qua Tieni questi del lanciare Anzi Ok Tieni anche questi Ok, perfetto Ah, raga Ve lo dico Se in questa partita Non facciamo un buon punteggio Poi ne facciamo un'altra Però Se già il video Durerà un bel po' Quindi già se andremo nella top 10 Top 15 Me lo lascio così com'è Perché comunque una delle prime Io migliorerò col tempo Perché ora ovviamente Inizierò a giocare anche a Fortnite Sempre con il suo aiuto Sempre in duo Ovviamente Ok, il pompa Eh, con cosa lo scambio? Prenditela come seconda Mettetela come seconda Ok, sì, sì Ok Se ti serve questo qua Vieni Tengo solo 8 colpi del pompa Ah, no Prendilo, prendilo Anche io Ce ne ho 10 Non fa niente Non fa niente Vai Eh, con cosa lo scambio? Cioè ce ne hai due questi qua verdi Eh, sì Fucile d'assalto Aspetta Fammi controllare Non ne so sicuro però Sì, ce l'ho fucile d'assalto Però Credo Questo qua è grigio Non è verde Però Non lo so Vabbò No, prenditi il verde Prenditi il verde Basta che è uguale Basta che è verde Ok, perfetto Chi è verde Blu è epico Ah, ok Sì, sì, sì Ah, è sempre dello stesso tipo Solo che cambia la rarità Alla fine Esatto Questo qua Arriva massimo a blu Vabbò Siamo messi abbastanza bene Comunque Insomma Dobbiamo iniziare ad entrare in safe Sì, sì Per ora ci siamo Però dico più verso il centro Ci servono anche un po' di materiali Tipo da costruzione Ah, raga Una mia pecca È che Proprio con le costruzioni Sono negato Però mi hanno detto Che all'inizio del gioco È abbastanza normale Non saper fare le costruzioni Però Io ovviamente Cerco sempre di migliorare col tempo Quindi io qualche oggetto Me lo prendo È Sono abbastanza negato Poi raga Soprattutto Alla prima partita Era impossibile per me giocare Perché sono abituato Con i comandi di Rainbow Ed è un casino È davvero un casino Perché qui sono molto diversi Intanto di là c'è Tometo Town Giusto? Sento che stanno fightando Che dobbiamo fare? Ok Vediamo un attimo Osserviamo un attimo Osserviamo un attimo Eh però non possiamo Stare troppo esposti Perché se c'è Non c'è chi È una cosa Ti vedi? No Stanno sotto al ponte Ah ok 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 Ah boh Io ti seguo Vieni qua Ah io c'ho qualche benda Eh c'e ne ho 5 Dimmi tu Vedi vedi Una terra Una terra Scendi veloce Scendi veloce Ok scendo scendo Prende il pompa Ok eliminati Ok perfetto Allora qua che è Prendi questo Prendi e prendilo Prendi 15 secondi Per non fare niente Ok Bevo un attimo Ti dà praticamente tutto Ti dà Esatto esatto Ah ti dà 100 Che cos'è epica questa Leggendaria No è leggendaria Ok Ti dà sia lo scudo Sia la vita Senza niente ti aiuta Ah vabbè Già tengo la vita però Ci sta qualche arma utile Prenditeli tu Gli oggetti da costruzione Che Servono di più a te Non ti preoccupare Vabbè vai tu Allora il pompa Dove sta? Questo qui fucile pesante tattico Esatto esatto No no Ah vabbè Già ce l'avevo uguale Sì vabbè Però qua ci stanno più colpi Qua ci stanno sei colpi Là c'è Stava scritto tre Dimmi se ti mancano i colpi di qualcosa Eh del pompa Ok Quanti ce ne avevi? Eh Sei Assalto 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 54 Sì sto a posto Vieni pure qua Vieni qua Vieni qua Vai Ok Poi di qua la balestra Ah è stile cecchino la balestra Ok Allora dimmi tu Andiamo in tomato town O nella casetta qui Già ci sono stati Ah sì infatti siamo lontani dalla safe Quindi andiamo in magazzino moffito Vediamo se riusciamo a lottare qualcosa Qua ci stanno sempre le casse eh Sotto al ponte Di solito lì sotto Ma ora no Di solito nei camion stanno spessissime Le casse nei camion? Eh a volte sì Ah ok Ah boh ma già qua secondo me già hanno pulito tutto eh Ah secondo me questo è chiuso Le vedi la costruzione la vedi? Sì 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 Ecco eh Ma speriamo proprio a vedere se riesco a fare qualcosa con la balestra eh Ok attenti si stanno fredando attento attento Ah ma non è molto precisa la balestra eh No no A lunga distanza Dimmi tu che dobbiamo fare Vieni vieni Tengo comunque lancia granate eh Quando stanno in alto stanno in vantaggio Eh sì Allora raga io sto a zero kill però ho fatto qualche assist eh Giusto per pararmi il c***o Allora quindi stanno di là Sì stanno sopra Però siamo messi abbastanza bene Però tu a livello di scudo non tantissimo eh Ma se ti serve qualche benda ne ho cinque No no le vende non fanno lo scudo Eh no lo so lo so però Cioè visto che hai poco scudo Andrà a perdere sicuramente pure la vita Capi? Non c'è la cinque bende Dobbbero stare lì sopra O sono scesi Sono scesi secondo me eh Lancia una granata qua Oh attento eh Ok sono scesi sono scesi Sono scesi posso scendere o mi faccio male eh Ok scendo da qua Mi tengo paura che ci sta qualcuno col cecchino eh Oh la safe la safe No no siamo in safe siamo in safe Siamo nel cerchio Andiamo a vedere un attimo da lottare qui dentro qualcosa Ok Rompi questi rompi questi Sì 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 lo so lo so Ah boh non è che mi servirà tantissimo Perché manco le so fare le costruzioni Vabbè almeno ci provi Almeno ci provi Vieni vieni Che cos'è star ma qua no vabbè non serve Stanno sulla montagna stanno Ci servirebbe qualche pozione qualche medikit Oh vai in quella casa in quella casa qua Sì c'è la bomba Ah di solito cambia Eh sì infatti ci sta Pure una costruzione Ok vai prendi prendi Le bende le prendo io qua Tanto ne tengo 5 Ok perfetto Tengo 10 bende Siamo tranquilli Siamo tranquilli Siamo messi bene Una controllata a volo Se no ci vengono per dietro Ok a posto Possiamo andare anche in safe Mancano 20 secondi Sì sì Oh non c'è mai capitata una partita così eh Da quando abbiamo iniziato a giocare Che poi vabbò sono 4 partite Questa qua è la quarta Però non è che Ci sta andando di lusso per ora eh Cioè è molto pacifica Ah boh ogni tanto bisogna saltare Comunque raga Non incontro nessuno Ah boh fin quando non incontri nessuno è tranquilla Raga una cosa Datemi consigli qui sotto eh Come potete vedere Non è che Che so proprio esperto Guardate infatti eh Fammi un'altra cosa a fianco Ah entro Lo vedi quello Quel palloncino là Ah sì Quella specie di mongolfiera là Eh Ah ok ok Sì 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 ho capito Sarebbe tipo una cassa alla fine Giusto Eh dobbiamo si attendi però Perché comunque stanno in vantaggio Loro che hanno costruzione e tutto Sì 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 Vabbè comunque dobbiamo andare in insetti Oh attento eh Sì sì Allora scendiamo da qua Scendiamo da qua Tranquillo Se no ti fai male Aspetta Senti come scendo io Ok perfetto Forse stanno in casa Stanno in casa Stanno in casa In casa qua? Sì 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 Vieni qua Vieni qua Entro da quest'altro lato Aspetta Aspetta Controlla se stanno le trappole Eccolo uno qua Uno qua Enzo Dove? Lascio Due 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 No 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 Aspetta 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 Quinti Quinti Eh sì no Avevo iniziato col pomba Solo che poi ho messo l'altra Perché col pomba Non è che mi trovo bene Vabbè comunque raga Direi che è stata una bella partita eh Quinti Ci sta Ci sta Comunque ragazzoli Io spero che questo video vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel pollicione in su Per supportare il canale Per prossimi video di Fortnite Come volete vedere Non è che sono Straforte Però dai Pian piano Possiamo iniziare a giocare bene Anche a Fortnite Iscrivetevi E cliccate sulla Sì c'è da migliorare Iscrivetevi E cliccate sulla campanellina Per non perdervi I prossimi video di Fortnite E mi raccomando Passate sul canale Di Enzo Lo trovate qui sotto in descrizione Enzo Official Tube Se volete cercarlo su YouTube Mi raccomando Andatevi ad iscrivere E qui da CatoSano è tutto E noi Ci rivediamo Ad un prossimo video Ciao Ciao raga Ciao